E rieccoci di nuovo dalla antica cucina del convento di Padre Pio per continuare a parlare di cucina, di santi e di beati. Protagoniste della puntata due donne, Santa Chiara e Santa Caterina da Siena e quindi anche per loro il nostro carissimo amico Don Andrea ci spiegherà curiosità legate alla loro vita, ci farà conoscere meglio la figura di queste due sante e ci darà appunto i consigli per preparare i piatti a loro legati. Partiamo dalla prima santa che è Santa Chiara, chi non conosce questa grande santa? Noi tutti la conosciamo, la conosciamo soprattutto per alcune caratteristiche, il fatto di essere un'amica di Francesco anche se in realtà ha un'età abbastanza diversa, che la segue, che è la prima insieme a sua sorella, ad alcune amiche a seguirlo e a dar vita al ramo femminile dell'esperienza francescana. È una santa molto forte, di grande carattere, avrà subito la responsabilità di accompagnare e costruire di fatto una forma religiosa nuova. All'epoca di Francesco si poteva pensare alle donne soltanto chiuse in un monastero, monache, benedettine, e qui invece si tratta di inventare qualcosa di nuovo che tenga conto dell'esperienza passata, ma insieme intuisca come dare forza all'intuizione di Francesco. Francesco. Ecco che Francesco accompagna Chiara e la porta a San Damiano in questo magnifico posto di Assisi e lì inizia questa avventura. Chiara è la superiore responsabile di questo gruppo di donne, ma il suo modo di essere responsabile è quello di servire, di farsi umile, di preoccuparsi anche delle cose più semplici. E la ricetta che guarderemo oggi, insieme a un'altra che vi citeremo, dice proprio questa sua cura e questa sua attenzione. Benissimo, e quindi semplice è la ricetta, come giustamente ricordava Don Andrea, legata appunto alla figura di Santa Chiara. Si tratta della focaccia di Santa Chiara, un piatto semplice, facile da realizzare, e veniamo gli ingredienti necessari per preparare questa pietanza. Dunque, 500 grammi di farina zero, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale, un cubetto di lievito, 250 millilitri di acqua tiepida, olio d'oliva e sale. E Don Andrea ci spiegherà, a parte gli ingredienti, come si fa proprio effettivamente questa focaccia. E perché la si fa? Perché la storia è interessante. È venerdì, giorno di quaresima, giorno di magro, ma c'è una donna che ha una grande tosse e non sa come passare. E Chiara non ha problemi a dire, pur essendo un giorno di magro, datele un po' di focaccia. Vedrete che con questa focaccia la cosa passerà. E passa. Ma dove è l'interessante? Non è tanto semplicemente il miracolo, molto più semplicemente la funzione terapeutica del mangiare, ma il fatto è l'attenzione alla persona, per cui anche se è venerdì, anche se è giorno di digiuno, se serve un po' di focaccia perché c'è una persona che non sta bene, la si deve fare senza nessun problema. Quindi il dono, no? Esatto, il dono è l'esatto che tutte le leggi, come dice il Signore Gesù, sono per l'uomo, per il suo bene. Dopodiché la ricetta è molto semplice, l'abbiamo recuperata, è una della tradizione umbra, oggi la chiamano la pizza al testo, è un impasto che si fa come tutti gli impasti a base di farina e lievito, quindi prendete la farina, la mettete in una ciotola, ci aggiungete una punta di zucchero e sale, fate ammorbidire il lievito sbriciolato in un po' di acqua tiepida, poi aggiungete man mano l'acqua e l'acqua con il lievito e impastate fino a ottenere un impasto bello liscio e compatto. Lo mettete in una ciotola, lo coprite con un bel panno e questo va lasciato lievitare fino a quando circa diventa il doppio del volume. In un luogo caldo. In un luogo caldo, la lievitazione è sempre importante farla in un luogo caldo e bisogna sempre stare attenti che non prenda dell'aria fredda, perché se no l'impasto si sgonfia e la cosa non diventa più buona. Quando questa cosa è lievitata, va stesa, non più di un centimetro, anche un po' meno e se avete il testo, che è questa piastra metallica che si mette in un camino, la cosa è certamente molto più buona, ma si può fare anche con una semplice padella antiaderente posta sul fuoco bella calda, basta girarla un paio di volte fino a quando vedete che l'impasto è ben cotto e vi assicuro che sarà un ottimo accompagnamento per un buon cibo, magari condito con un po' di olio o di rosmarino. Si può usare anche al posto del pane, no? Questo tipo di focaccia. Assolutamente sì, è un pane bello saporito. Perfetto, quindi ricordiamo gli ingredienti, se appunto non siete riusciti a segnare in tempo tutto, 500 grammi di farina, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale, un cubetto di lievito, 250 millilitri di acqua tiepida, olio d'oliva e sale. E passiamo alla seconda ricetta e alla seconda santa di questa puntata, che è Santa Caterina da Siena, è la ricetta a lei legata, è la torta all'erbe amare, giusto? Esattamente. Anche Santa Caterina è una grande donna, una grandissima donna con un carattere estremamente forte. Pensate che vive nel XIV secolo, in quell'epoca il Papa non è a Roma, è ad Avignone, per tutta una serie di questioni politiche, è il prigioniero praticamente del re di Francia che lo ha portato lì, e questo è un momento di grande crisi per la Chiesa. E questa donna, senese, giovane, domenicana, a un certo punto non si fa scrupolo addirittura di scrivere al Papa, di dire, Papa tu devi tornare perché questo è il luogo, tu sei il vescovo di Roma. Ma pensate, una donna del XIV secolo che prende carta, penna e scrive al Papa. Non ce l'immaginiamo, in realtà è una figura veramente grande e forte, anche rispetto alle donne, alle persone con cui condivideva la sua esperienza religiosa. E questa donna fa della penitenza e della mortificazione uno dei cardini fondanti della sua vicenda credente. E anche qui noi abbiamo il racconto, perché molto spesso il racconto della storia dei Santi ci viene fatta anche attraverso quello che mangiavano, o molto più spesso non mangiavano, proprio per dire questo rimando continuo all'importanza del Signore, al primato di Dio su tutte le altre cose. E così leggiamo nella sua biografia che molto spesso si era ridotta a mangiare del pane e delle erbe, le erbe che si trovavano all'epoca nei campi. Ecco allora che questa torta che abbiamo riproposto è una torta molto molto semplice, ma che in qualche modo ci restituisce questo sapore. Perché anche questo è uno degli scopi di questo nostro percorso culinario, quello di far riscoprire anche i sapori di un tempo, le vecchie pietanze, quelle che vedremo poi nel corso delle puntate, sono anche quelle che ci preparavano i nostri nonni, quindi riscoprire un po' i valori di questa cucina semplice e di una cucina povera. Qui vediamo gli ingredienti che ci serviranno poi per preparare appunto questa torta all'erbe amare. Gli ingredienti sono appunto 150 grammi di bietola o cicoria, è indifferente, utilizzate appunto il tipo di verdura che più vi piace, 150 grammi di spinaci, 300 grammi di farina, un pizzico di bicarbonato, due spicchi d'aglio, 300 grammi di pecorino fresco, noce moscata, olio d'oliva, sale e pepe. E la parola come sempre a Don Andrea per raccontarci come si prepara questa torta. A differenza della focaccia di prima che ha lievito, quindi è una pasta più raffinata, questa è una pasta molto semplice, infatti vedete non ha lievito, basta impastare la farina con l'acqua, il bicarbonato che dà un po' di piccolo agente lievitante, come al solito, come ogni pasta, va lavorata bene fino a quando non diventa bella omogenea, perché qui la lasciate riposare un'oretta. Nel frattempo prendete le erbe che avete trovato, quelle che si trovano al mercato, quelle che abbiamo indicato, le pulite, le mondate, le tagliate a striscioline, le passate in padella con un profumo di aglio che rende la cosa più saporita, poi le lasciate raffreddare, stendete la pasta, la mettete in una teglia e ci mettete dentro le verdure. Se volete rendere il piatto un po' più significativo, potete aggiungerci un po' di formaggio, quello che avete in cucina va bene, qui ogni formaggio insaporisce il piatto, e lo passate al forno fino a quando cuoce. Per dirvi un'idea di molto legata, per vedere anche come queste cucine sono legate alla storia, all'epoca, in epoca tardo-medievale, rinascimentale, la cucina ama, va a stupire molto le persone e i commensali. Allora, per esempio, anche una pasta simile in un contesto non come quello di Santa Caterina, quindi un contesto molto povero, o meno un contesto un po' più ricco, per esempio, veniva colorata, sciogliendo nell'acqua dell'impasto un po' di zafferano, oppure veniva profumata, e potrebbe essere un'idea simpatica, prendendo della menta fresca, tritandola finemente e aggiungendola all'impasto. Subito assume un buon profumo. Quindi vi consigliamo di provare anche voi a casa a preparare questo piatto che sembra, dalla descrizione, davvero gustoso. Ripetiamo velocemente gli ingredienti. 150 g di bietola o cicoria, 150 g di spinaci, 300 g di farina, un pizzico di bicarbonato, due spicchi di aglio, 300 g di pecorino fresco, noce moscata, olio d'oliva, sale e pepe. Vogliamo ricordare che la cottura è di circa un'ora in un forno a 180 gradi, ma come sempre, anche per oggi, se avete perso alcuni passaggi, o se vi mancano alcuni ingredienti all'appello, scriveteci all'indirizzo info, chiocciolateleradiopadrepio.it, indicando in oggetto ricette, e vi risponderemo, dandovi tutti i chiarimenti e consigli. Forse qualcuno troverà una mail dicendo, e le uova? Che cosa c'entrano le uova? Perché i nostri telespettatori avranno visto le uova, che non abbiamo citato fino ad adesso. Ma perché volevamo lasciarvelo come cosa finale? Un'altra volta capita che arriva una sorella che è colpita da una tosse micidiale. E anche qui Santa Chiara con grande semplicità le dice, va bene, non c'è problema, datele un uovo, appena appena caldo, tiepido. Sapete che la cottura dell'uovo è una cosa estremamente complicata, ci sono tutti i tempi, ma se voi prendete l'uovo, lo fate scaldare non più di un paio di minuti nell'acqua bollente, poi lo decapitate e lo bevete, oltre a essere un ottimo uovo fresco e quindi un'ottima pietanza, ricorrerete ancora una volta alla cura di Chiara nei confronti delle sue sorelle. Quindi la funzione è anche terapeutica di questi piatti e di questi cibi. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!